Ciao a tutti raggi e incubers, Yaki, con calma, è ormai passato un anno da quando due piccoli fratellini di nome Yaki, con calma, no, ce lo sto facendo, bastardo, e Tommy, caricando il loro primo video su Skyrim, esattamente il 24 novembre del 2011 e siamo passati, sono mai passati 365 giorni e i gentuvers hanno compiuto un anno, e abbiamo anche ottenuto la partnership, quindi insomma è incredibile tutto ciò, non pensavamo assolutamente di arrivare a questo punto, quindi vi ringraziamo, e come avete visto questo video ci ha richiesto una preparazione superiore al solito, abbiamo creato questi bellissimi capelli di carta, superiore, di solito molto di meno, attaccati con lo sputo, si e no che accendiamo il computer di solito, questa volta invece guarda, ce mi è messo una fatica ragazzi, guardate, ecco, perfetto, perfetto, diciamo adesso cosa faremo Tommy per festeggiare un anno sul tubo, allora, noi abbiamo fatto diversi contest e il cappellino mi è caduto, noi abbiamo fatto tanti contest, però non abbiamo mai fatto un giveaway, qualcuno di voi già precedentemente ce l'aveva chiesto, e quindi per l'anno sul tubo insomma abbiamo deciso di festeggiarlo facendo il nostro primo giveaway, quindi il nostro giveaway sarà un concorso dove ci sarà un premio, giustamente, giustamente, perché era un anno sul tubo, quindi abbiamo deciso di farvi un regalo, per il concorso basterà scrivere qui sotto, essere iscritto al nostro canale, iscrivervi qui sotto, partecipo al contest, possibilmente scrivete un solo commento, perché, cioè, riusciamo a prendere i nomi comunque, però è più facile se scrivete solo un commento, ci speriamo di mettere tempo, perché tanto noi dopo dobbiamo riprendere giù tutti i nomi, quindi anche se voi mettete il vostro commento due volte, non è che lo contiamo due volte, solo ci rompe perché abbiamo più commenti a leggere, e abbiamo poco tempo, comunque andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere i premi, visto che questo mese è arrivato il primo, lo so Tommy, lo so, lo so, lo sono fatto così, cosa stavi dicendo, non mi ricordo niente, che questo mese è arrivata i primi soldi della partner, ah esatto, allora visto che non lo facciamo assolutamente per i soldi, abbiamo deciso di usare i primi soldi della partner per regalarvi il gioco, quindi sono 5,60 euro, 50 cent, qualcosa del genere, quindi abbiamo deciso di mettere a disposizione un qualsiasi gioco che potremmo prendere su Steam, che costa meno di 6 euro, quindi innanzitutto voi mettete parteciperò nei commenti qui sotto, ed inoltre scrivete anche il gioco che vi interesserebbe, nel caso voi verreste selezionati, su Steam, esatto, quindi selezioneremo in modo random come già avevamo fatto per i contest precedenti, quindi su random.org, ognuno dei partecipanti avrà un numero a caso, e la solita procedura dei contest insomma è abbastanza lineare come cosa, una cosa che potrebbe sparire ovvia, ma forse per qualcuno non lo è, bisogna avere un account Steam per poter avere il dono, perché ovviamente lo dovete scaricare da Steam, quindi ragazzi correte a iscrivervi a Gentuber se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace a questo video e commentate mettendo, parteci però al contest e il gioco che volete, che vi regaleremo, che deve essere sotto i 6 euro. Steam per il contest, grazie per il primo contest, una settimana, a partire da oggi, aspetta facciamo, è il 24, non so calcolare, è il 1, facciamo che, il computer ci suggerisce il sabato 1, facciamo che da domenica 2, cioè, domenica 2 sapremo i risultati, quindi sabato 1 compreso, ogni sabato 1 sera, quindi no, perché saremo in giro, facciamo l'estrazione, domenica, ho tirato un puglione di soffro, domenica vedremo chi ha vinto, quindi ragazzi ricordatevi di partecipare, abbiamo spiegato tutto, se avete domande chiedete, mettiamo i nostri bellissimi cappellini, salutiamo con i nostri cappellini tirati sul momento, non vuole dire ma il mio è molto più bello, si legge l'1, è un 1 questo, ok Tommy, dobbiamo finire così, calmo, io ho l'aiuto se non si vede, no, io ho l'aiuto, da Gentuber se è tutto, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi, un anno sul tubo, ciao ragazzi, ciao ragazzi e grazie di tutto. happy board di Gentuber, ok?